Musica Pauroso incendio a Rossano, mobilificio devastato, danni per centinaia di migliaia di euro Tribunale, a Roma l'ultima idea di classarla a sezione staccata, avvocati a rivolta occuperanno il nuovo palazzo di giustizia Equitalia, pignore macchinari, chiude un mobilificio di Mussolente, la denuncia, vittime della burocrazia Sanità, ecco le schede regionali, l'US3 perde un primariato, niente taglia, i posti letto Calcio annuncia shock della famiglia Rosso, tra un anno mollerà il Bassano, intanto budget ridotto e largo ai giovani Buonasera a tutti, dunque una giornata campale sotto vari punti di vista, Tribunale, Sanità, Sport Ma all'apertura la conquista la cronaca con il devastante incendio che questa mattina ha distrutto un mobilificio di Rossano Veneto Le immagini e la cronaca nel nostro primo servizio Prima un botto tremendo, poi un muro di fuoco e una colonna di fumo visibile fin da Bassano E' iniziato così l'incendio che alle 11.30 di questa mattina ha divorato il mobilificio TMC di via Bessica Rossano L'azienda è intestata al cassolese Giovanni Campagnaro Quando il fuoco è divampato nella fabbrica stavano lavorando tre dei suoi quattro fratelli Sono arrivati i vigili del fuoco di Bassano, poi supportati dai colleghi di Vicenza, Cittadella e Castelfranco Il loro lavoro è durato fino alle 16 Sono riusciti a salvare il reparto produttivo e la lucidatura mentre il fuoco si è preso il magazzino e la sala mostre Ed è proprio nell'area in cui venivano esposti i mobili che si è verificata l'esplosione Sotto il tetto metallico arroventato dal sole la temperatura nel locale era molto alta L'aria si è saturata di vapori emanati dalle vernici ed è bastato nulla per innescare l'incendio Oltre ai pompieri sono intervenuti i carabinieri di Rosà, il commissariato di Bassano e l'ARPAF che non ha rilevato rischi di intossicazione per i residenti nella zona Ancora è indefinito l'ammontare esatto dei danni ma l'ordine di grandezza è quello delle centinaia di migliaia di euro Trasformare il tribunale di Bassano in sezione staccata di Vicenza è questa l'ipotesi emersa oggi a Roma Infuriati gli avvocati che annunciano occuperemo il nuovo palazzo di giustizia Una settimana di tempo per studiare con i tecnici un possibile compromesso che non piace assolutamente a Bassano Trasformare i tribunali soppressi dal governo Monti in sezioni staccate con funzioni dimezzate L'ennesimo rinvio è una proposta al ribasso. Ecco cos'è uscito dall'incontro di oggi a Roma tra il ministro Anna Maria Cancellieri, il suo staff e presidenti e capigruppo di maggioranza delle commissioni giustizia di Camera e Senato È una cosa inaccettabile in nessun modo perché trasformare in sezione staccata un tribunale vuol dire iniziare a smantellarlo Soprattutto non è accettabile questa continua presa in giro, come la chiamo io, da parte del ministero nei confronti della politica La senatrice Rosanna Filippin confessa tutta la sua amarezza ma non si arrende e il presidente degli avvocati bassanesi Francesco Savio annuncia azioni clamorose Quello che proporrò già giovedì prossimo, giovedì pomeriggio, al Consiglio dell'Ordine il mio consiglio è di occupare l'edificio nuovo del tribunale come hanno fatto a Chiavari, proporò di entrare fisicamente nell'immobile con l'autorizzazione ovviamente del comune che è competente e di creare un presidio continuo, 24 ore su 24, dove si alterneranno professionisti, cittadini comuni e chi vorrà, in un certo senso per dare un messaggio forte, in modo di fare almeno un asse tra noi e Chiavari Equitalia pignora i macchinari e un mobilificio di Mussolente è costretto a chiudere i proprietari si dichiarano vittime della burocrazia Sei anni fa il mobilificio Seretta fatturava 700.000 euro, aveva 10 dipendenti e buone prospettive di crescita poi però le cose sono precipitate nel 2009 i fratelli Manuel e Luana Seretta hanno rilevato l'azienda dal padre per appianare i 300.000 euro di debito che hanno portato all'ingiunzione di fallimento mentre la crisi infuriava hanno superato ostacoli di ogni tipo finché Equitalia ha bussato alla loro porta per una esposizione di 170.000 euro intanto la sperata rateizzazione si arenava nella burocrazia oggi sono stati pignorati un furgone, un'auto, un carrello elevatore e una spazzatrice senza macchine il mobilificio chiuderà benché il 2013 si è iniziato molto meglio del previsto e i titolari contassero di assumere un operaio entro l'anno La rateizzazione prevista da Equitalia doveva poterci perlomeno ascoltare e prendere in considerazione la possibilità materiale che noi altri possiamo veramente far fronte al nostro debito le nostre scelte ci hanno sempre portato ovviamente a un fine che è quello di rispettare persone e ovviamente di rispettare i collaboratori togliere ovviamente i mezzi per fare logistica sarebbe veramente un disastro Oggi la giunta regionale ha approvato le nuove schede sanitarie Bassano tira un sospiro di sollievo Il direttore Compostella l'aveva detto non fasciamoci la testa prima del tempo in effetti rispetto al quadro che si prefigurava secondo le prime ipotesi la revisione della sanità veneta non ha penalizzato particolarmente l'Ulss bassanese le api calità saranno 25, 22 a Bassano e 3 ad Asiago dei tre primariati che una settimana fa erano dati per persi due non verranno toccati quello che dovrebbe lasciare il san Bassiano e a quanto pare prenderà la strada di Vicenza nella logica dell'area vasta è anatomia patologica è il servizio in cui si svolgono gli esami per individuare la presenza di tumori nei tessuti per la lettura di biopsie, pap test, agospirati, vetrini e ematici il direttore generale dell'Ulss 3 Compostella assicura che anche in assenza di un primario a Bassano anatomia patologica continuerà a funzionare le api calità confermate fra le tre messe in dubbio dovrebbero essere chirurgia vascolare e medicina generale ma lo si saprà con certezza dopo che la giunta regionale emanerà le schede con i dettagli nessun taglio dovrebbe riguardare Asiago è andata meglio del previsto anche con i posti letto le schede della dotazione ospedaliera approvate oggi a Venezia prevedono entro due anni 515 degenze nell'Ulss 3, 16 in meno rispetto a quelle teoricamente programmate finora ma siccome nei fatti ce ne sono 505 fra Bassano e Asiago si tratta addirittura di un incremento Antonio Compostella non nasconde la sua soddisfazione si dice determinato a ridiscutere con la quinta commissione regionale anche la perdita del primariato sottratto e sulle schede della sanità vanetta interviene oggi anche l'assessore regionale Elena Donazzan gli allarmismi della vigilia sono stati smentiti, scrive in una nota tanto più che all'ospedale di Asiago è stata riconosciuta l'apicalità del pronto soccorso Asiago mantiene i primari di medicina e riabilitazione, sottolinea Donazzan e conserva il punto nascita, conferma del valore di questo presidio di montagna un ciclista di 33 anni residente a Tombola è ricoverato in serie condizioni all'ospedale di Vicenza a seguito dello scontro con un'auto l'incidente è avvenuto alle 19 di ieri lungo la statale 47 all'intersezione con le vie Crocerone e Madonna di Monteberico il ciclista ha riportato traumi al volto e agli arti dei rilievi si è occupata una pattuglia della polizia stradale di Padova aumentano i casi di violenza sulle donne il PD lancia l'allarme negli ultimi anni in Italia il numero complessivo degli omicidi è diminuito mentre sono in costante aumento i femminicidi molti dei quali commessi fra le mura domestiche un fenomeno inquietante su cui i sociologi si stanno interrogando per aginare una deriva che va in senso opposto rispetto alla civiltà servono azioni specifiche sia sotto il profilo penale sia sotto quello della prevenzione se ne è parlato in Salatolio a Bassana o durante un meeting promosso dal gruppo donne del PD c'era anche l'onorevole Daniela Sbrollini promotrice di un disegno di legge contro la violenza sulle donne c'è da fare tantissima prevenzione che poi è alla base anche di quello che noi abbiamo votato in Parlamento due settimane fa con la ratifica della convenzione di Istanbul riconoscere tutti i tipi di violenza che oggi ci sono sia domestica che fuori l'approvazione di una legge seria sul femminicidio quindi riconoscere l'omicidio di genere e approvazione immediata della legge sull'omofobia perché se vogliamo davvero tutelare tutte le forme di violenza queste sono due emergenze che purtroppo vedono l'Italia avere oggi il primato in Europa è confermato, partirà il primo luglio l'estensione della zona a traffico limitato in orario sterale e notturno in centro storico a Bassano ma il sindaco Cimatti guarda già oltre nessun ritardo sulla tabella di marcia la ZTL notturna scatterà il primo luglio senza altri indugi installati i display, regolate le telecamere predisposta alla cartellonistica avviata una campagna informativa che raggiungerà le famiglie del centro attraverso questo pieghevole tutto è pronto per imporre lo stop alle auto dalle 20.30 alle 5.30 di mattina dal lunedì al venerdì una soluzione comunque sperimentale mette in chiaro il sindaco Cimatti che ribadisce il suo personale rimpianto fosse per lui avrebbe anticipato il semaforo rosso alle 19 per pedonalizzare il salotto cittadino nell'ora degli ultimi acquisti dopo le proteste dei commercianti la giunta ha optato per un compromesso a Cimatti però sta ancora più a cuore un altro esperimento che fissa come prossimo obiettivo insieme alla chiusura al traffico di via Vittorelli vorrei provare ammesso che ce ne siano le condizioni ad un'estensione della ZTL in un periodo soprattutto dal giovedì alla domenica perché sono convinto che una volta superati i primi periodi in cui sicuramente proteste, disagi e quant'altro poi una volta sperimentata secondo me nessuno vorrebbe più tornare indietro come nessuno vuole più tornare indietro e ripermettere le macchine che parcheggino in Piazza della Libertà Etra informa che attivo un nuovo sistema per pagare le bollette del servizio idrico oltre che agli sportelli della posta e della banca le fatture possono essere saldate nei punti lottomatica in contanti oppure con carta Bancomat con l'aggiunta di una commissione Agli utenti bassanesi delle ferrovie non porteranno grandi vantaggi i futuri orari cadenzati meno treni, non sempre più veloci e poche coincidenze Sarve a poco regolarizzare gli orari delle linee ferroviarie se poi le coincidenze mancanti vanificano l'investimento Per lo snodo di Bassano lascia parecchio a desiderare il nuovo orario cadenzato proposto dalla regione Veneto progetto che dovrebbe decollare a settembre per entrare a regime entro fine anno Sulle criticità punta il dito un'analisi della situazione ferrovie nord-est per il correre del Veneto Forte è vero il guadagno di tempo sulla Bassano-Venezia da 90 a 68 minuti ma scendendo da 18 a 15 collegamenti al giorno 9 nei festivi Ancor più netto il taglio sulla Bassano-Padova da 20 a 12 corse, 6 nei festivi con durata di percorrenza pressoché invariata Quel che è peggio, i treni da Padova e Venezia giungeranno a Bassano in contemporanea 3 minuti dopo la partenza della corsa per Trento linea già regolarizzata con il passaggio in gestione alla provincia autonoma Per chi deve cambiare convoglio inevitabile insomma un'oretta di attesa in stazione Paradosso finale, grazie alle coincidenze ben congegnate a Castelfranco si farà sempre prima ad arrivare a Treviso che a Vicenza via Cittadella Un treno diretto che colleghi Bassano al capoluogo in 40 minuti molto più velocemente che in bus nel 2013 resta una chimera orari cadenzati o no Proseguono le residenze coreografiche internazionali al centro per la scena contemporanea la casa della danza di Bassano ospite di turno in questi giorni il duo italo-spagnolo formato da Moreno Solinas e Igor Urlesai il pubblico potrà assistere a una prova aperta domani alle 21 al Garage Nardini ora una breve pausa poi lo spot per la tua pubblicità Publi Vicenza divisione commerciale videomedia SPA Emisfero apre a Bassano da giovedì 27 giugno in Viale di Gasperi Emisfero l'ipermercato con 40 negozi Radio Vicenza Radio Vicenza Per la tua pubblicità Publi Vicenza divisione commerciale videomedia SPA in primo piano per lo sport l'annuncio shock della famiglia Rosso nel 2014 lascerà il Bassano Calcio un anno e dirsi addio la scelta della famiglia Rosso va controcorrente anche stavolta né abbandono né prolungamento semmai un solo anno di attività ancora per gestire l'uscita a giugno nel 2014 il presidente Stefano Rosso oggi in sede è stato perentorio nessun ripensamento anche in caso di promozione l'anno 21 alla base della scelta la mancanza di entusiasmo svuotato dopo 17 anni sulle montagne russe tante belle emozioni con la cavalcata dall'eccellenza una storica C1 ma anche cocentissime sanguinose delusioni eravamo stanchi ha detto Rosso in conferenza chiedendo cortesemente di non farsi intervistare in un momento così amaro facciamo un'altra stagione per dare moda ai dipendenti in società e ai tecnici delle giovanili di sfruttare l'anno a disposizione per trovare un'altra sistemazione la prossima sarà la diciottesima stagione consecutiva può già bastare così contestualmente Stefano Rosso ha confermato una drastica riduzione del budget la volontà di puntare sui giovani e il desiderio tuttavia di raggiungere l'obiettivo salvezza che nel nuovo forma del campionato significa automaticamente promozione alla C1 inoltre Werner Seber è stato confermato responsabile per l'area tecnica per l'allenatore è invece tutto da decidere Cusatis il prescelto con ridimensionamenti in atto non è più così sicuro sono in rialzo le quotazioni di Rastelli obiettivamente non il massimo ma non è escluso una terza via tipo Antonio Paganin trainer della Berretti con questo è tutto grazie per averci seguito alle prossime edizioni arrivederci da 17 anni affidabilità competenza e professionalità a servizio del territorio e delle aziende Telemar Internet Quality Provider a 200 anni dalla nascita di Giuseppe Verdi a Vicenza si celebra con Viva Verdi 2013 il classico di Giuseppe Verdi